Arteon 78F, uno dei modelli più gettonati e venduti della collezione su base Fiat Ducato, il Isman e Bischoff, produttore ammiraglia di Harvey Nimmer Group, che da sempre ha contraddistinto la propria produzione sull'esclusività e sulla ricerca del massimo comfort per ogni stagione. Questo è un motorhome da 7,78 m di lunghezza destinato ad assecondare le esigenze tanto della coppia esigente quanto di un equipaggio di 4 persone e lo fa attraverso molteplici possibilità di personalizzazione che riguardano non soltanto la sostanza del veicolo, quindi il suo aspetto, il suo look interno ed esterno, la sua tecnica costruttiva ma anche quello che è il layout interno, quindi la disposizione. L'Arteon 78F è un motorhome caratterizzato da un accogliente zona living proposto sia con la classica simidina e tadelle, con tavolo centrale e divanetto contrapposto, che unito ai sedili girevoli in cabina guida rende un ottimo ambiente conviviale per 5 o 6 posti a tavola, sia nella versione face-to-face dedicata ad equipaggi ridotti che vogliono beneficiare in sosta come in marcia della massima comodità. Centralmente si trova la zona servizi composta dal blocco cucina gourmet molto spazioso e il vano toilette. I servizi si snodano intorno sia al blocco cucina che è completo naturalmente del maxi frigorifero con apertura bilaterale, quindi che può essere azionata sia da destra verso sinistra che viceversa in funzione della possibilità e regalare quindi la massima comodità a chi lo utilizza, il classico forno a gas per arrivare poi ad uno degli ambienti principali di questo veicolo, la toilette. Il bagno è costituito da un'ampia doccia separata dal confortevole vano toilette con lavandino in grado di offrire massima privacy all'ambiente. Di seguito nella parte posteriore troviamo la zona notte con letto matrimoniale centrale. In coda all'abitacolo una vera e propria camera da letto padronale, un maxi letto matrimoniale centrale facilmente accessibile sui tre lati, regala tutto il comfort domestico e uno spazio davvero invidiabile a partire dalle possibilità di entertainment con una vera e propria media tower integrata, un alloggiamento specifico per la classica tv led o lcd con retroilluminazione per non affaticare gli occhi durante la vista dei propri programmi preferiti, ampissime possibilità di stivaggio particolarmente ben organizzate con doppio armadio guardaroba e cassetti inferiori a comando centralizzato, per arrivare poi a quella che è la privacy con una efficace e pratica separazione rispetto alle zone dell'abitacolo in modo da offrire veramente il massimo comfort in ogni situazione. Anteriormente invece c'è il classico letto basculante dotato di illuminazione inferiore al led. La scelta dei materiali è studiata con estrema cura sia per gli esterni che per gli interni. Un veicolo di lusso deve chiaramente offrire al proprio committente la possibilità di incidere significativamente sul look e sulle dotazioni. Questo vale naturalmente per l'Arto 78F dove il cliente ha la facoltà di scegliere il look esterno, scegliendo non soltanto la verniciatura bianca, metallizzata o anche a scelta nelle tinte preferite dal cliente. Negli interni con due tipologie di mobilio, chiara come in questo esemplare, denominato modern line o più scura per chi ama tonalità più classiche, classic line. Pressoché infinite possibilità per ciò che riguarda la scelta delle tapezzerie con quasi 500 varianti a scelta componibili, in modo da consentire anche durante l'anno il cambiamento stagionale delle fantasie, delle colorazioni e dell'atmosfera all'interno del veicolo, per arrivare poi a tutta quella che è la parte accessoristica e di componentistica, che spazia dal riscaldamento a convettori, per arrivare, se richiesto, alle batterie a litio di ultimissima generazione. Tutto è poi affidato ad una base meccanica di assoluta eccellenza, il Ducato nella nuova versione Euro 6 D-Temp, con motorizzazioni da 140, 160, 180 cavalli, cilindrata da 2,3 litri, possibilità di cambio automatizzato 9-speed a 9 marce. Questo è abbinato chiaramente al telaio Alco MC, realizzato specificatamente per le dimensioni dell'allestimento, che consente la creazione di un doppio pavimento passante presente su tutta la superficie del veicolo. Alto 78F, l'esclusivo motorhome di Nisman e Bischoff, dove tutto fa la differenza.